Ciao a tutti, io sono Ivana, ho 27 anni e sono innamorata. Sono innamorata del mio pianeta in maniera irrazionale e viscerale. Difficile esprimere un amore autentico quando si è piccoli. Io sapevo solo di volere bene al mio pianeta e quindi lo usavo come sfondo per il cellulare o per il computer. Difatti era l'unico strumento che avevo a disposizione per dirmelo. Per il resto a scuola superiore ho frequentato il liceo delle scienze umane perché tutto sommato pure gli umani mi piacciono un sacco. Esistono tanti nuovi inizi per fortuna e il mio primo grande nuovo inizio è avvenuto quando ho scoperto che esisteva una facoltà chiamata geologia che riguardava lo studio del pianeta Terra. Ricordo perfettamente il mio sgomento, cioè mi chiesi, cioè esiste la possibilità che io possa studiare il pianeta, cioè che io possa lavorare, cioè che io venga pagata per studiare il pianeta. E così mi iscrissi, sfacelo. Molto peggio di quanto credessi, il mio primo grande nuovo inizio. Un turbine di bocciature, di rifiuti da parte dei docenti, di continui rimandi alla mia incapacità di gestire discipline come la matematica, la fisica e la chimica. Un continuo sentirsi dire non penso sia il percorso giusto per te. Mi sentivo bloccata, stagnante. Avrei fatto di tutto per superare più velocemente possibile gli esami, ma ero bloccata pure nelle intenzioni. L'esame di matematica, per esempio, avrei voluto copiarlo, ma non facevo niente. Così è iniziato il mio secondo nuovo inizio, perché ho scoperto che all'interno del pianeta tutti i raggi che trasportano energia scelgono sempre il percorso più veloce per il principio di Fermat. E il percorso più veloce coincide con le rocce più dense, con quelle più difficili da attraversare. Io ero andata lì per studiare il mio pianeta e il mio pianeta mi aveva incoraggiata. Mi aveva detto, se vuoi andare più velocemente, devi scegliere il percorso più difficile. Così ho iniziato a studiare matematica. Ho iniziato dalla roccia più densa. L'ho ripetuto otto volte l'esame, per superarlo alla nona. Difficile restare serena quando tutti i tuoi colleghi vanno velocissimi e tu stai a meno di zero. Però intanto quella battaglia l'avevo vinta. Il mio terzo nuovo inizio è avvenuto quando ho scoperto che le rocce terrestri, esseri apparentemente insenzienti, in realtà hanno una memoria. Le rocce hanno memoria degli sforzi che hanno sopportato. Se sottoposte a quegli stessi sforzi, non si rompono più. E' necessario uno sforzo sempre maggiore per generare una rottura. Ancora una volta, un chiaro messaggio. Dovevo avere memoria della mia battaglia. Così non sarebbe stato un problema sopportare gli stessi sforzi. E così, dopo l'esame di matematica, ho iniziato a dare un esame dopo l'altro ad una velocità che non pensavo mi appartenesse. Pezzo per pezzo, senza fare sconti, lasciando indietro i pezzi di un'ivana incapace e inadeguata. Non riuscivo a superare gli esami con grandi voti, però. Restavo una studentessa mediocre. Non prendevo più di 25. Lo sapevo che il voto non era il modo per valorizzarmi. Però sentivo che c'era ancora una parte di me che volevo trasformare. Così ho scoperto che il calcare e il marmo, così apparentemente diversi, hanno la stessa origine. Ho scoperto che la grafite, quindi il materiale che usiamo per scrivere con la matita, e il diamante, hanno la stessa composizione chimica. Il marmo è un calcare metamorfosato, cioè che ha sopportato pressioni e temperature elevatissime e ha scelto di sfruttare il dolore per diventare più liscio, luminoso e di qualità. Il diamante è una grafite che però si forma nel mantello terrestre, quindi dove la luce non batte, dove fa caldo e si sta stretti. Forse era arrivata anche per me l'occasione di diventare diamante o marmo. In quel periodo stavo preparando una materia astrusa, la geofisica applicata, che usa la matematica e la fisica per studiare l'interno del pianeta senza infastidirlo. E così mi sono concessa la mia personale metamorfosi, superando l'esame di geofisica con trenta e lode. La mia prima lode in geofisica. Io avevo lasciato il calcare e la grafite per dare forse spazio ad un marmo e a un diamante. E così è iniziato un processo in cui ho superato tutti gli altri esami con voti molto alti, con il trenta, questo famigerato trenta. E mi sono laureata alla triennale perfettamente in corso e con una tesi in geofisica applicata. Quando mi sono iscritta alla magistrale in geofisica applicata, ho scoperto che il pianeta ha un obiettivo. E il suo obiettivo è raffreddarsi. Come le sorelle e i fratelli, Marte, Venere, Mercurio. Il suo scopo è stare al fresco. E per realizzare il suo obiettivo sposta le masse, fa le montagne, crea gli oceani, si aiuta con i vulcani e con i terremoti. Con qualche boom boom sparso qua e là. E sta riuscendo pian piano negli anni a formare una crosta che gli permetta di raffreddarsi sebbene non possa liberarsene. E così durante la magistrale ho anche scoperto che quando il mio pianeta mette un'azione in profondità, questa azione ha una conseguenza per circa 900 anni. Volevo essere anch'io così incisiva nella mia vita. E quindi nella magistrale ho superato tutti gli esami con la Lode, vincendo un premio di studio che mi ha permesso di fare una tese all'estero, a Mainz, di laurearmi con 110 Lode e il plauso della Commissione, di vincere un dottorato in geofisica per lo studio della correlazione tra il campo elettromagnetico terrestre e le onde sismiche e ritrovarmi oggi a fare un TED Talk sul mio pianeta. Sono sicura che se fosse qui presente mi avrebbe fatto un occhiolino. Io sono profondamente innamorata di un pianeta così particolare, perché non deve essere facile essere grande, al caldo, dover ruotare su se stesso e attorno ad un'altra stella, tutti i giorni, tutto il giorno, farlo da sempre ed essere in grado di ospitare così tanta vita. Così tanta vita. La mia stima è enorme. Oggi, al mio pianeta, che amo, che apprezzo, voglio dire grazie per avermi incoraggiata tantissime volte senza saperlo. Voglio dire grazie per ospitare me, i miei amici, la mia famiglia e tutti noi senza saperlo. E gli voglio dire grazie perché ho scoperto che donna voglio diventare. Rotonda e profonda, come te. Grazie. 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 Grazie.